ragazzi dicevo dato che i dentisti sono due cornuti praticamente la live inizierà mezz'ora più tardi quindi prendetevola con luca e con alessandro va bene quindi alle 21 non ci posso fare niente vi occupate i dentisti e che fai non te fai il traffico la mattina sul raccordo si che tu fai e non te ne privi che fai nei primi dai lo sapete qual è il problema è che in realtà me sto anche quasi per cacassotto questo è proprio il problema proprio più grande che ci possa essere tu bloccato sul raccordo con quello stimolo che ti fizzica bella storia ok l'emergenza sta tornando al proprio posto ragazzi adesso vi volevo tranquillizzare finalmente sono sul trono di spade e tutto a posto tra l'altro io volevo rendere partecipi di un altro problema del mio pc che è afflitto da dal diavolo probabilmente quando lo riaccendo in realtà tutti e tre gli schermi mi fanno questa roba qua per poi sparire lentamente e tornare normali quindi bel pc del cazzo cazzo